facciamo un coltello da questo gioco in un 20 minuti via va bene così dai va bene no no per cominciare il gioco escegliere qualche opzione e clicchare questo per cominciare il gioco clicchare il gioco e clicchare il gioco sotto qui cosa fare giocare clicchare il gioco e clicchare questo per cominciare il gioco clicchare il gioco e clicchare il gioco sotto clicchare il gioco clicchare il gioco clicchare il gioco ok let's start ok 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 non ho capito come si gioca ok 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Questa è buona che è andato in livello Non c'è, andai là non vai Cosa è successo? 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 Ecco, mi è stata una cacca Cosa è un do Ah, non è successo Cosa è successo? 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 no 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 sì e me e me chi ha vinto? non ho capito una mazza ah ho perso ah fa più punti ho capito quello c'è un'opzione e tap play this to begin the game no tap your face icon and the set button below ah manchonk a fare coppia qua tu 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 questa con questa questa ah sempre con questa ah non ah non pass ah non vai o faça passale ah non si mi chiede vai è scritto qua qua? no 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 happy 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 poi da un altro giochino ok che ha cambiato? Please remember the cards Which has changed 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 Which has changed Please remember the cards Which has changed Which has changed Which has changed Thanks for trying Which has changed Choose any option and tap Play this to begin the game Tap your face icon and the set button below Can you see the cards Yankee has said that's a challenge Your result will be shown at the end of the challenge Do your best to win the gold medal May I ask you a question Please give me your answer What year is it today I'm going to write What do you do I'm going to write Ciao Franco, sono in live, si è lo schio sul tele ma quanto vado, alle 5 e mezza ho iniziato, anzi di 6 meno un quarto, ecco, ho una questione circa del tempo, non ho capito questa domanda, una questione circa del tempo, beh vabbè faccio saltare, no perché mi sono guardato il campemio, si è guardato la formula 1, mmm, questa è, start, la data di oggi, lol, 0,2, eh, 10, magari vuole contario eh, tardi domenica c'è un po' che la fine, si, si volevo provare solo i giochi di cremei che ci sono tanti da fare, ah, mancano altre domande, ancora non ho capito il tuo gioco, come si fa a riuscire qua, ecco non mi piace, ho finito ancora 5 minuti stacco, allora questo è un po' altro gioco questo, questo che cos'è, proviamo questo, è un gioco che puoi giocare da uno a quattro giocatori, non faccio faccio faccio, tap your face icon and the set button below, sto sbagliando, no, così, set, set, start, cos'è questo? ah, lo staccia di pulsante, ah, lui non fa niente, forse lo fa lo prima, io poi lo fa lui, eh aiuto eh aiuto eh aiuto mi sa che a box che ha vinto va e pensavo che è riuscito franco mole che non c'è in live ho visto poi ho un altro giochino manca manca questo questo l'ho capito questo sembra complicato sembra complicato questo è sempre facile perché non capisco i giochi ah il bar della comunione si si sarà prestigiare che devo fare qua 8 ai calcoli noi è 17 mondo cosa vuol dire ah cancella e come faccio si si poi faccio a inviare qua è giusto giusto eh da aspettare che scade il tempo mi sa cioè questo è un giochino per bambini questi giochi che c'è dentro qua va bene per vittoria cioè se gli piace magari mi gioco di pupù si mi sa che non gli piace la tua vittoria sto pensando cosa ha fatto ah ha sbagliato no tu l'ha fatto giusto 2 più 9 e 11 vabbè seconda question let's go ah dov'è arrivare fino a qua oh 5 più 8 13 ah vittoria me lo tiene in testa quanto costa ah non è che la marcia la demo 30 euro è un po' caro eh 30 euro si fa uscire da gioco ah basta far così voglio farti vedere gli altri giochi vediamo ma manca un minuto ah questa è le differenze allora ho fatto tutto praticamente manca solo questo prima ho fatto il gioco delle carte questo è di inzeccare le carte è un memory praticamente questo è un memory questo è il manjong vabbè questo non ho capito cos'è vince chi ha il valore della carta più alta beh questo si sa già cos'è il culi questo non mi ho capito è una specie di forza 4 valore ho perso quello delle domande quello dei pulsanti adesso manca questo differenze cos'è questo fa vedere ho provato un gioco bello prima che mi è piaciuto poi l'altro ho provato all'inizio no al secondo gioco mi è piaciuto facciamo l'ultimo poi stacchiamo vediamo che devo fare non ho capito ah trovo l'errore ah non è mai ah genuini fake ah devo guardare qua ah nel suo di qua di qua ah è falso vedi questo qua ormai ho cliccato che non capivo vabbè vabbè ormai le differenze si ormai ho sbagliato vabbè basta chiudo il gioco ti faccio vedere i giochi che ho provato come si chiude qua non ho capito